buongiorno a tutti ragazzi bentornati nel canale oggi vi proponiamo questo nuovo video della libreria lava a questa è la l'edizione ral della libreria lava dove appunto potete scegliere di realizzare la libreria con finiture della scala colori ral in opaco lucido in questo caso state vedendo la libreria lava in finitura opaca in nero opaco veramente molto bello come colore di grande impatto su questa libreria per chi non l'avesse mai vista questa è una libreria molto particolare io direi che è quasi un'opera d'arte se possiamo definirla così intanto il suo design è registrato quindi è una libreria unica nel suo genere non c'è nulla di simile in tutto il mercato a livello di forma abbiamo preso ispirazione dalle forme organiche della lava per realizzare questo capolavoro italiano di design viene costruita totalmente a mano questa libreria ragazzi è veramente qualcosa di unico richiede un sacco di lavoro e un sacco di manualità viene creata da un blocco di carbonio e vetro resina tutto lavorato a mano ok ogni foro viene levigato totalmente a mano con diverse grane quindi richiede veramente tante tante ore di lavoro realizzare questo capolavoro questa che vedete nello specifico c'è stata commissionata da un cliente privato di californiano quindi un cliente americano della california e questa libreria nera opaca verrà spedita appunto a casa sua lui è un collezionista di oggetti di design ha scelto quindi di inserire nella sua casa questo questa libreria lava perché è rimasto molto colpito quando l'ha vista si è innamorato quindi la destinazione finale di questo di questa libreria sarà los angeles appunto in california in america non vediamo l'ora che arrivi perché veramente farà rimanere il cliente di stucco un'opera del genere considerate che ha richiesto quasi due mesi di lavoro realizzarla i nostri tempi di consegna comunque sui vari prodotti oscillano tra i due e tre mesi poi dipende le varie personalizzazioni le varie finiture eccetera quindi questo è un elemento variabile adesso passeranno delle clip in modo che possiate vedere anche più da vicino i vari dettagli le varie finiture di questa di questa scultura deve vedere anche la qualità delle nostre lavorazioni ogni nostro singolo oggetto viene realizzato totalmente a mano in italia la nostra produzione nella regione del veneto nord italia ogni singolo prodotto viene anche seguito da una persona detta che ne segue tutto il processo dalla creazione all'imballo finale questa libreria adesso è appena stata finita sulla fase di verniciatura quindi è pronta per l'imballo andrà imballata su una cassa totalmente realizzata in legno su misura tutti i nostri prodotti che facciamo vengono spediti su casse di legno realizzate appunto su misura per garantire anche la massima sicurezza all'oggetto durante tutto il trasporto dalla nostra azienda fino a destinazione finale noi spediamo in tutto il mondo quindi dobbiamo essere molto attenti anche a alla fase di spedizione imballaggio di ogni nostro capolavoro godetevi queste clip che state vedendo che vedrete ammirate da vicino anche questo capolavoro e noi non vediamo l'ora che arrivi a casa del nostro cliente e ci vediamo nel prossimo video con un altro capolavoro firmato mavi ma iscrivetevi al canale e seguiteci ciao ragazzi ciao 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 ciao